uomini e donne claudia donigi e lorenzo riccardi sembrerebbero aspettare un bambino ve li ricordate claudia donigi e lorenzo riccardi certamente si sono stati due grandi protagonisti della trasmissione di maria de filippi uomini e donne formano una coppia ormai consolidata da tre anni ma in queste ultime ore è comparso un post sui social che ha fatto sospettare proprio i fan vediamo di cosa si tratta claudia donigi e lorenzo riccardi sono stati due grandi protagonisti ovviamente di uomini e donne la coppia sta insieme da diverso tempo in queste ore questo post con un pancino sospetto di lei sembrerebbe far sussultare tutti i fan e pensare a una gravidanza i due sono abituati ormai a convivere momenti della loro vita su instagram e sui social in generale infatti sono pieni proprio di foto è il lo scatto che è stato proprio osservato dei fan ritrarrebbe lei con un pancino sospetto e questi nuovi particolari sembrerebbero essere non confermati da i due i due ovviamente si sono conosciuti nel programma di uomini e donne e hanno spaccato l'opinione pubblica perché da una parte all'epoca c'era chi provava sgomento e perplessità mentre dall'altra c'era chi provava approvazione e sostegno però ormai la coppia ribadiamo sta insieme da diverso tempo e quindi sembrerebbe essere abbastanza consolidata questo pancino sospetto spuntato nelle ultime ore non è stato quindi confermato né da lui né da lei ma vi terremo sicuramente aggiornati su quello che succederà nel frattempo se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24